ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui vi faccio dire che ho recuperato il secondo capitolo della saga di sherlock holmes gioco di ombre blu ray più dvd più coppia digitale con robert dowland junior e judo eccolo qua dietro il big ben belle bellissime immagini di copertina questo è laterale sherlock holmes gioco di ombre contenuti speciali per il blu ray copia digitale facile veloce e portatile offerta valida film per tutti qua vabbè c'è la copia digitale codice per la copia digitale e sotto c'è il dvd e quattro ragazzi c'è il blu ray e questo era sherlock holmes gioco di ombre per te vi piace come tasca del canale come sempre ci vediamo al prossimo video ciao a tutti belli